L'ultima finestra prenatalizia di giovani pianticelle viola crescono, possiamo raccontarvi ciò che è successo nell'ultimo weekend prima di accomiatarci con voi e di tornare quando sarà già anno 2020 e quando nella prima puntata dell'anno nuovo faremo il punto della situazione ci saranno tanti tanti risultati perché ovviamente fioccheranno decine e decine di tornei sotto le feste dove vedranno in campo molte formazioni giovani di viola. Allora si chiude un anno 2019 in casa viola abbastanza se non molto deludente, il Natale lo festeggiano bene solo gli under 15 di Mazzantini 1-0 nel recupero contro la Sampdoria, la primavera torna battuta 2-1 dal Roma dalla Lazio, gli under 16 cedono alla Sampdoria anch'essi nel recupero per 2-1, l'under 17 aveva concluso il 2019 già domenica 15 di sempre perdendo a Roma con la Lazio 2-0, per l'under 18 arriva il secondo punticino a Genova col Genoa 0-0 e se i campionati fossero finiti con questo turno qui ci sarebbero grossi problemi per trovare il viatico di qualificare qualche squadra per i playoff. Ma ovviamente siamo solo alla fine del girone di andata, tempo per rimediare ce n'è, bisognerebbe però che dall'inizio del 2020 tutte le squadre cominciassero a rimarciare nel senso giusto. Primavera si interrompe la mini striscia viola, il 2019 dunque termina Maluccio, Lazio, Batto e Fiorentina 2-1, possiamo far partire le immagini, vi facciamo sentire anche il commento da Sport Italia tramite violachannel.tv, grazie per tutto quanto. In Coppa Italia 4-3-3 sia per Menichini che per Bigica, inizia bene la squadra a Biola con il cross di Simonti, non raccolto da Kukovic, dall'altra parte invece al dodicesimo si sblocca il risultato con la splendida punizione di Alessio Bianchi, pallone che passa sopra la barriera e si allunga Brancolini ma non riesce a evitare il vantaggio bianco-celeste, insiste la Lazio sempre a destra con Nicolo Armini e anche con Bertini che affonda su Simonti, si mette il pallone dentro con Dallemura che anticipa anche Brancolini e mette nella sua porta il gol del 2-0 per la Lazio al minuto numero 21, si mette in ripidissima salita la partita per la squadra di Bigica che però ha l'occasione per andare sul 2-1 con il cross da destra, né Spalluto né Kukovic riescono a mettere il pallone in porta, fa lo stesso anche Coffi con Alia, bravo a bloccare in due tempi. Nel finale di primo tempo Nimmermer pescato in profondità da Raul Moro non riesce ad anticipare Brancolini, dall'altra parte invece Spalluto si gira in pochi centimetri e calcia largo alla destra di Alia. Ancora Lazio con il destro da fuori debole di Sciotti controllato da Brancolini, nel finale di primo tempo invece occasione colossale per la Lazio con Nimmermer che calcia debole favorendo la parata di Brancolini e la successiva respinta sulla linea di Dallemura. Si conclude il primo tempo con il cross di Nicolo Armini, fuori misura, ne ha sbagliati diversi il numero 2 della Lazio, Raul Moro invece sbaglia la misura del destro dai 30 metri, talento lo spagnolo messo in mostra anche nel corso del secondo tempo. Nella ripresa la Fiorentina cambia due giocatori con l'ingresso in campo di Milani, che metterà il timbro sul gol del 2 a 1, entra anche Edoardo Pierozzi al posto di Simonti con Ponzi che passa a fare l'esterno sinistro di difesa Spalluto, non riesce qui ad abbassare il pallone verso la porta di Alia e né in questo caso a schiacciarlo di testa sul calcio d'angolo di Fiorini. Ancora Fiorini calcio di punizione, palla che passa nell'area bianco celeste, nessuno pronto alla correzione, dall'altra parte la rimette Milani direttamente tra le braccia di Alia. Ancora Fiorentina però che insiste con il cross basso di Edoardo Pierozzi, l'anticipo di Franco, uno dei migliori nel match per la squadra bianco celeste, Nimmermer cerca di girarsi ma non trova la potenza per impensierire Brancolini, ovviamente si aprono spiragli enormi per la Lazio in contropiede, qui Raul Moro prova a accelerare, a superare tutta la difesa della Fiorentina, l'anticipo da parte di Brancolini, da fuori entra anche Gorgos nel secondo tempo, ci prova qui lo svedese classe 2000, Fiorentina che come vedete colleziona tante occasioni, qui è bravissimo Alia a togliere il pallone dalla testa di Niccolò Pierozzi, poi sul lancio profondo dalle retrovie, Spalluto supera anche Alia, la palla che diventa buona per Milani al minuto numero 28, soltanto da spingere in rete, 2 a 1, gol della Fiorentina, Lazio sorpresa con la difesa schierata da un pallone a scavalcare il pacchetto arretrato, diventa un'altra partita da quel momento con Alia che deve fare gli straordinari, qui mischia furibonda, parata quasi da Futsal di Alia che ci mette il corpo, Lazio che prova in qualche modo ad alleggerire la pressione della Fiorentina, Brancolini bravo qui a leggere il pallone filtrante, ci prova anche Ponzi con un destro che finisce però totalmente fuori dalla porta, complice anche una deviazione, vedete le tantissime occasioni per la Fiorentina, qui con Niccolò Pierozzi sul secondo palo, sfruttando una delle rare sbavature della partita di Marco Alia. Nel finale entra anche Mignani con Alia che ci mette ancora la mano di richiamo, l'espulsione di Emiliano Bigica, come vedete incredulo per la decisione dell'arbitro a Campora di Castellammare di Stabia, Fiorentina che però si riversa in attacco anche senza il suo allenatore per dare la caccia al gol del 2-2, vedete Mignani e Spalluto che restano in area di rigore, altro calcio d'angolo, colpo di testa di Ponzi con la respinta sulla linea di Franco, Lazio che cerca di chiudere il match con Raul Moro da solo contro tutta la difesa viola, penetra il talento ex Barcellona che trova la chiusura in uscita di Brancolini e nel finale quando tutto sembra lasciare presagire alla vittoria per 2-1 della Lazio che poi arriverà, guardate che occasione che ha Dutu, sul rilancio di Brancolini non riesce a calciare nello specchio della porta, si salva la Lazio, perde la Fiorentina, 2-1 per i Bianco Celesti, Alfersini. Allora, come diceva il titolo di Viola Cianni, i Viola ci provano disperatamente se Dutu non mette dentro quel pallone, allora evidentemente quella partita non la vogliamo nemmeno pareggiare, Fiorentina col 4-4-2 con Brancolini, Ponzi e Simonti, come ha detto lo speaker dal 46esimo Edoardo Pierozzi, Dutu, Fiorini dal 62esimo, lo svedese Gorgost, Dallemura autore purtroppo in scivolata di un clamoroso autogol, Niccolò Pierozzi dall'84esimo Mignani, Bianco, 80esimo Lobisa, Spalluto, Coffi, Kukovic dal 46esimo Milani, colui che segnerà il gol del 2-1 a Muniti, Dallemura, Bianchi, Scheo, Spalluto, Gorgost, Sciotti, Niccolò Pierozzi, Ponzi, Fabo, Espulso, Bicica. Come detto, i gol di Bianchi, autorete di Dallemura, 73esimo Milani dunque, usciamo sconfitti da Formello per 2-1, si interrompe immediatamente la ministriscia positiva, la vittoria col Cagliari, la vittoria col Genoa della Coppa Italia, sembrava che tutto potesse ripartire al meglio, invece così non è, Sassuolo-Chievo 1-1, Lazio-Fiorentina 2-1, Pescara-Torino 0-3, Atalanta-Inter 2-1, Roma che va a vincere a Cagliari 5-1, Empoli-Geno 1-1, Juventus-Bologna 3-2, Sampdoria-Napoli 2-1, la classifica alla fine del 2019, 13 partite giocate, Atalanta 37, Cagliari 28, Roma 23 con l'Inter, Genoa 21 con la Juventus, 17 l'Empoli, 16 la Lazio, 15 Sampdoria e Bologna, 14 la Fiorentina dodicesima in classifica e zona playoff lontanissima, serve un girone di torno a fuoco e fiamme, altrimenti non se ne fa di niente, Sassuolo 13, Pescara 11, Chievo-Verona 10, Napoli 9, campionato Under 15, la Fiorentina vince e recupero, a Genova battiamo la Sampdoria 3-1, rimonta vincente, ci siamo schierati con Tognetti, Penchini-Fragnelli, nel secondo tempo Di Paola, Pietro Comuzzo salta la macchia a Millis, secondo tempo Maggini, Picchianti, Ievoli, Ofoma, Presta nella ripresa Graziani-Mendoza, rilevato da Dama, arbitrato il signor Cavo di Genoa, vantaggio a Sampdoria, Di Leone al 14esimo su calcio di rigore, poi le triste viola, doppietta di Ufoma, ventesimo, quarantesimo, chiude Ievoli al 58esimo, e dunque solo Mazzantini può esultare, ne ha ben donde, ricordo purtroppo, cinque sconfitte consecutive negli ultimi cinque match interni a Firenze per gli under 15. Genoa-Sassuolo 4-1, Juventus-Livorno 3-1, Lazio-Spezia 2-3, Parma-Empoli 3-0, Virtus-Interna-Torino 1-2, il recupero, Sampdoria-Fiorentina 1-3, Torino 29, Genoa 27, Lazio 22, Sampdoria 21 col Parma, 18, la Fiorentina in sesta posizione, si può ancora fare, Spezia 15, Juventus 15, 12 Sassuolo, 8 Livorno-Empoli, 5 Lentella, 2 Elpisa, campionato under 16, purtroppo sconfitta nel recupero, viaggiavano insieme under 15, under 16, due settimane fa a Genova, Diluvio, i due il campo di Bogliasco completamente allagato, la Sampdoria ci batte 2-1, nulla serve, il gol di Cellai nel finale, decidono Pozzato e Matera, Fiorentina che è andata in campo con Bertini, Giulianelli, Messini, Cellai, Amatucci, Prati nel secondo tempo, Siena, Falconi, rilevato dal fratellino di Federico Chiesa, Lorenzo, Azzeni nella ripresa Nardi, Gori Macchi nella ripresa Vigiani, Ungheria nel secondo tempo, Aprile, allenatore Donadella, arbitrato Burlando, 15esimo Pozzato, 72esimo Matera, 75esimo Cellai, poi dall'in poi a sedio Viola, ma la difesa Doriana reggeva l'urto e i tre punti arridevano ai genovesi, Entella Torino 1-0, Genoa Sassuolo 4-1, Juventus Livorno 5-2, Lazio Spezia 2-1, Parma Empoli 2-1, il recupero, Sampdoria Fiorentina 2-1, la classifica, Juventus 31, Genoa 25, Lazio 23, Parma 18 punti, Sassuolo 17, Fiorentina, Sesta piazza 16, volendo si può ancora fare, Empoli 13, Sampdoria che però sale con la vittoria a 16 punti e arriva a pari punti con la Fiorentina, 11 lo Spezia, 9 il Pisa, 8 Torino Entella, 4 il Livorno, Lander 17 aveva chiuso il 2019 sconfitta dalla Lazio a Roma, due settimane fa 2-0, vi ricordo gli ultimi risultati per dovere di informazione, Juventus Sempoli 5-2, Lazio e Fiorentina 2-0, Livorno Entella 4-0, Parma Torino 3-2, Genoa Sassuolo 1-2, Pisa Spezia 1-1, la classifica, Juventus 36, ha chiuso già i giochi, Sassuolo 22, Spezia 21, Empoli 20, Parma 19, Lazio 16, Genoa 15, Fiorentina in ottava piazza, siamo lontanucci 14 insieme a Torino e Sampdoria, 11 il Pisa, 7 in Tella, 7 il Livorno, campionato Under 18, avevamo chiuso con lo 0-0 col Genoa, l'ultimo turno addetto di Roma, Inter 1-2, Atalanta Sassuolo 8-0, punto esclamativo, Milano Torino 2-0, Genoa Fiorentina 0-0, qui le cose vanno purtroppo però decisamente male, primo anno è un anno di esperimenti, Atalanta 22, Sassuolo 16, Genoa 14, con l'Inter Milan 12-9, Sampdoria Roma, 5 il Torino, 2 purtroppo la Fiorentina, andiamo e chiudiamo quest'ultimo appuntamento del 2017, le giovanissime, Pianticelle Viola, campionato Under 14-2006, Arezzo, Fiorentina B 1-3, Pappagallo per l'Arezzo, Galassi, Gianneschi, Macchini per la Fiorentina, Fiorentina B che si è schierata con, Messina, Giusti, Rossi, Alessandro, Cuomo, Rossi, Jacopo, Conti, D'Amato, Martini, Galazzi, Dini, Gianneschi, a disposizione c'erano Leonardelli, Rossi, Sturli, Peruzzi, Macchini, allenatore del Sordo, la Fiorentina invece batte la Cararese, 1-0, decide Puzzoli, Fiorentina con Oliva, Paolieri, Eldib, Sadotti, Fiorini, Lucchesi, Fortini, Degli, Braschi, Brubino, Puzzoli a disposizione, Rosini, Giusti, Cuomo, Gozzini, Gianneschi, Bertolini, Galassi, Conti, Trapale, allenatore Orsini e la classifica, Fiorentina A 28, Empoli 22, Fiorentina B, Livorno 21, Ponte della Cararese 19, Pistoiese 16 punti, Pisa 14, Siena 13, Arezzo 10, Pianese 6, Ponte della B e Pistoiese B, un punto, campionato esordienti, professionisti under 13, 2007, girone A, quarto turno, Empoli nel derbissimo di Montemoro, Empoli batte Fiorentina B, 2-1, Berti per la Fiorentina, Centoni Orlandi per l'Empoli, Fiorentina B con Dei, Rus, Iseli, Pucci, Morandi, Batignani, Rachini, Forzieri, Berti a disposizione, Fioravanti, Alzieni, Guido Rizzi, Orloschi, Pisani, Biagioni, De Cani, allenatore Bacci come da distinta lista ricevuta, la classifica, Empoli che se ne va, 33, Fiorentina B 25, Pisa 18, Livorno 16, Cararese 13, Pistoiese C e Pistoiese A, 8, Ponte della 7, campionato esordienti, professionisti under 13, girone B, sempre quarto turno, con la Fiorentina A che riposava, Fiorentina A 25, Arezzo 22, Empoli B 19, Pistoiese B 14, Siena 11, Ponte della B 3, Pianese 1, campionato under 13, 2007, fair play, girone A, Empoli, anche qui una sconfitta, Empoli batte Fiorentina B, qui ci vuole la B, maiuscola volendo, Azzeni per la Fiorentina, Orlandi e Centoni per l'Empoli, con la classifica, Empoli che prende in largo anche qua, battendo la Fiorentina, nello scontro diretto, Empoli 26, Fiorentina B 21, Livorno 19, Pisa 16, Ponte della 15, Cararese 11, Pistoiese A e Pistoiese C, 8 punti, l'ultimo ragguaglio, poi arriveranno tutti i risultati, dei primi calci, nella giornata di oggi, più tardi ancora non ci sono comparsi, sul computer, li troverete inseriti nel testuale, di Giovani Pianticelli Viola Crescono, su firenzeviolasupersportelive.com, a seguire, l'ultimo ragguaglio, dicevo, è quello del campionato esordiente Under 13, 2007, Fair Play, quarto turno, anche qui riposa la Fiorentina, Fiorentina A che conduce la classifica con 25 punti, Empoli B 22, Arezzo 17, Siena 14, Pistoiese B 12, Ponte della B 3, Pianese 1 punto, con questo io vi abbraccio, vi ringrazio, so che questo appuntamento è seguitissimo, è l'unica trasmissione di un canale regionale, o volendo anche leggermente extra regionale, come il canale 196-194, perché sbordiamo in Liguria fin sotto la Spezia, tutta la Toscana, la parte bassa dell'Umbria, la parte alta del Lazio, la parte costiera dell'Isola d'Elba, dove un canale segue tutti i campionati giovanili di una società professionistica, come ACF e Fiorentina, che ci ha dato il rilascio e ci autorizza a seguire tutte le formazioni con i filmati e le interviste, io vi ringrazio, ringrazio la CF e Fiorentina, ringrazio la mia regia, sempre solerte nel supportarmi, nel mandarvi tutto quello che arriva in redazione, l'appuntamento è per la prima settimana del 2020, quando i campionati riprenderanno, noi faremo un lungo primo ragguaglio dell'anno nuovo, buon Natale, buon anno, felice inizio del 2020, vi voglio bene, vi abbraccio, sempre forza Fiorentina, grazie da Stefano Ballerini, linea da regia, buon anno!